Se voi la vedete, eccola qua Alessia, sono molto contento di questa cosa, guardate non era organizzata, ma manco a farla apposta è capitato stasera che si sono trovati qui la vecchia leva e la nuova leva, la nuova leva che si sta facendo onore altrettanto, voi la vedete, se andate sulla sua pagina Facebook Alessia Mera, vedrete che è in tour, sta un po' dappertutto, la troverete adesso prossimamente, anche ad agosto, in tante tante serate qui in zona, un po' dappertutto, andate sulla sua pagina Alessia Mera, noi non abbiamo avuto purtroppo il tempo di preparare un brano assieme per questa serata, ma ad agosto lo faremo, ad agosto faremo di nuovo un bel concetto al castello di Agropoli e io ti aspetto lì così faremo un brano assieme in Italia 2, va bene? Grazie anche a te Veronica e ti aspetto pure a te, anche se adesso sei grande, sei matura, ma ti aspetto per un altro momento, va bene? Ciao, grazie 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 Grazie